Nella serata di ieri intorno alle ore 20 si verifica l'ennesimo crollo dal costone roccioso che sovrasta la SS18 di Regna Inferiore nel tratto che collega Sapri a Maratea. Non è trascorso molto tempo dall'ultimo crollo verificato sin estate che aveva portato all'interdizione dell'arteria per due mesi ed ecco che tornano i disagi per i residenti della zona e per quanti frequentano le due località per motivi di lavoro o altro e che ora dovranno percorrere lunghi tratti per raggiungere la desiderata destinazione. Nella serata di ieri arriva subito l'ordinanza dell'ANAS che decide per la chiusura al traffico in entrambi i sensi di marcia dell'arteria stradale per effetto del crollo di massi sulla carreggiata verificatasi al chilometro 219 più 900. Secondo quanto riportato nel documento dell'ANAS il provvedimento di chiusura diventa un atto dovuto anche al fine di verificare la situazione del costone ed evitare i rischi per quanti percorrono l'arteria. Saranno quindi indispensabili nuovi sopralluoghi sul tratto interessato in programma appena le condizioni meteo lo consentiranno per poi stabilire gli interventi da realizzare sulla parte interessata dall'ennesimo crollo al fine di mettere in sicurezza l'arteria a tutela dell'incolumità di quanti la percorrono. Dall'ANAS arrivano anche le indicazioni sul percorso alternativo deciso per raggiungere le località di Sapri e Acqua Fredda. Un nuovo itinerario da calcolare che prevede l'attraversamento della fondo valle del Noce con un aumento del tempo consistente. Se prima per raggiungere acqua fredda da Sapri e coprire gli 8 chilometri circa di distanza che separano le due località si impiegavano poco più di 10 minuti, fino alla sistemazione del tratto occorrerà percorrere un tragitto che prevede circa un'ora di cammino.